Il filo conduttore dell'iniziativa sarà quello di commemorare il passaggio di Garibaldi e Anita ad Arezzo avvenuto proprio il 22 luglio 1849, città che adesso ospiterà le celebrazioni garibaldine 2023. Non è un fatto nostalgico o una rivocazione storica, è pensare alle nostre origini e pensare anche a quanti sono oggi nel mondo che non possono esprimere la loro opinione, che non hanno la libertà, che non hanno diritti e quindi questo ci deve far pensare e la camicia rossa di Garibaldi ricordiamoci che è proprio un simbolo di questa lotta. La figura dell'eroe dei due mondi sarà così al centro di un'articolata serie di eventi in programma nei vari luoghi della città. Si parte venerdì 21 luglio alle 17.30 con un appuntamento all'auditorium Aldo Ducci. Verrà proiettato un film girato con la presenza di Anita proprio e infatti è intitolata la versione di Anita. La versione di Anita è che è un documento storico, un docufilm su questo personaggio. Il secondo appuntamento invece è previsto sabato 22 luglio alle 9.30. C'è stata la scopertura di una targa in memoria della divisione Garibaldi, che era una divisione partigiana militare Garibaldi, presa proprio il nome di Garibaldi proprio perché combatteva per la libertà e anche qui bisognerebbe pensare che il nostro vivere di oggi nella libertà e nei diritti lo dobbiamo al sacrificio di queste persone che hanno dato qualcuno addirittura la vita, ma comunque sia almeno un pezzo della loro vita per quello che noi oggi possiamo usufruire. Ci saranno anche discendenti di coloro che hanno combattuto della divisione Garibaldi e ai quali verrà dato un riconoscimento, una medaglia che è stata fatta coniare proprio per l'occasione. Così pure verrà data anche una medaglia alle istituzioni. Anche perché dobbiamo ricordare che Arezzo ha dato un contributo notevole alla divisione Garibaldi, perché al primo posto c'erano i torinesi, la Torino, da Torino venivano molti militari, circa 700. Circa 500 venivano da Firenze, ma al terzo posto c'è Arezzo con 230 militari. Grazie.